E rieccoci naturalmente e come ogni lunedì, dopo la pausa di Pasquetta, siamo naturalmente in compagnia del nostro music, Max! Ciao Max! Buongiorno, ve lo diamo noi, ma ve lo do anch'io, assolutamente! Eccoci, tornati a Onda Video, buongiorno a tutti! Buongiorno Max, oggi purtroppo causa pioggia, ci tocca questo lunedì piovoso, però... Ma guarda, è bello perché sei in diretta e nessuno ti toglie da lì! Esatto! Anzi, pensa che molti che dobbiamo uscire, con la scusa, rimarranno in casa, staremmo in casa per guardarli! E guardano noi, ovviamente! Quello diciamo che dovrebbero farlo tutti i giorni anche quando non piove! Ecco, invece di andare a lavoro, vedete, non sto scherzando! Non andate più a lavorare, di chiamate il vostro capo, di chiede, ascolti! Sì, così ce li troviamo tutti qua fuori, insomma! No, anzi, ricordiamo agli studenti appassionati di Lombardia TV, appassionati del vostro programma, che con lo streaming, durante la lezione, possono con un tablet e uno smartphone, vedervi in ascolti! Così prendono subito la nota, guardano i video, anche per i giovani! A posto stiamo! Stiamo dando degli ottimi consigli! Stamattina, ok! Noi siamo però una scuola moderna! Sì, sì! Ma faccio con i tempi! Direi che stamattina, Max, secondo me, qualche istituto, secondo me, ci viene a prendere! Ragazzi, scherzavo, scherzavo! Bravissim! Studiate, 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 concentratevi! Ok, Max, non so se lo sai, ma io conosco persone che, per guardarci in diretta al mattino, ci guardano in macchina col tablet mentre guidano, perché voi pensate che stiamo scherzando, io invece no, conosco un paio di persone che fanno così, che salutiamo, tra l'altro, però... Ora, uno si fa chiappare dal Ministero dell'Istruzione, sono io, si fa chiappare dal Ministero dei Trasporti, però... Eh, 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 eh... Allora, come va? Ho visto la mattinata piena di tante cose! Assolutamente sì! Le novità non sono ancora finite! No, ne abbiamo ancora, per questo lunedì! Abbiamo ancora tante, tante novità! Poi ieri siamo stati anche, tra l'altro, alla fiera di Grumello, come abbiamo accennato in apertura, che poi vedrete sulle nostre reti, vi comunicheremo gli orari naturalmente, ma noi vogliamo sapere un po' di novità, Max! Ma io venivo a raccontare una, dal mondo dei Linkin Park, no? Perché, insomma, c'è questo dibattito all'interno dei fans, no? In tutto il mondo, su cosa fare dopo la scomparsa del cantante, sapete che è purtroppo morto, nel 2017, Chester Benjamin, tra l'altro io ho assistito di persona all'ultimo concerto italiano ho fatto qui, a Mondo, qui vicino a noi, del Linkin Park, tra l'altro una giornata a livello personale, questo è un racconto piccolo mio, dove due volte l'ambulanza ha cercato di portarmi via, perché facevo un caldo assurdo, non c'era d'acqua, l'organizzazione, secondo me, lì è un po' peccato, però vabbè, ho portato in porto il mio obiettivo, che era quello di vedere Linkin Park, che non avevo mai visto, ed è stata anche, forse, è stata l'ultima occasione di vedere insieme a Chester. E ora cosa succede? Il gruppo, la band, si domanda, ma cosa facciamo dopo, cioè senza Chester? E in effetti, anche, come dicevo, i fans, i fans lo domandano, è una soluzione che ad oggi non c'è. Però, diciamo che il numero due della band, o il numero uno oggi, che è Mike Shinoda della band, che è il famoso rapper, no, ve lo ricordate, quello che vicino a Chester rappava e ha scritto con lui pezzi, e quello che apportava proprio gli arrangiamenti delle canzoni, ha scelto per ora la strada solista, no? Perché ha detto, mi ispiro a Dave Grohl, De Nirvana, che dopo la scomparsa di Kurt Cobain con la band, ha deciso di interprendere una carriera solista, che la porta a fondare i Poo Fighters, che oggi vendono milioni di dischi nel mondo. Dall'altra parte, ci sono band che, quando è scomparso il proprio frontman, vedi gli ACDC, hanno trovato, e con successo, un nuovo cantante che quasi, quasi, non dico che ho fatto dimenticare il precedente, ma ha fatto rimanere sulla pressa dell'onda, anzi, addirittura ha migliorato la fanbase iniziale dell'ACDC, cioè, con Brian Johnson al posto di Bon Scott, alla voce, nel 1980 trasformarono Back in Black, un album strepitoso, che oggi praticamente è il secondo, se non sbaglio, a livello mondiale di vendite, no? Dopo Thriller di Michael Jackson, e dietro c'è la raccolta. Quello penso che rimarrà primo per tutta la vita, penso che rimarrà. Sì, sì, anche se comunque negli anni questo primato è stato appaccato, forse, da Adele, che, insomma, stava avvicinando, no? Poi non so se si è riuscito, non sembra di no, insomma, però Michael... Si tiene ancora strettamente lo scelto di questo primato, ma quindi, insomma, Mike Shinoda di Linkin Park, dicevamo, ha scelto per ora la strada da solista, in attesa, ho guardato però, sapete, su Wikipedia, no? E Linkin Park dice, ben ancora in attività. Quindi, una, sapete che poi le pagine di Wikipedia, sì, ci sono i files che aggiorano, ma ovviamente sono controllate dalle cariscografiche, dalle band stesse, e quindi si dice ancora in attività, una porta se la sono lasciata aperta. Ma, sostituire Chester, trovare un'altezza, non è semplice. Decisamente no. Noi cosa facciamo, se lo riascoltiamo? E noi ci ascoltiamo in Linkin Park con Chester, questa è Papercut. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì, intorno alle 11. E vi abbraccio veramente di cuore a voi e a tutti i nostri telespettatori di On The Video. Grazie mille, ciao Max! Grazie a tutti, sono Linkin Park, ciao!